Finire di settimana che vedrà una maggiore stabilità sulla nostra penisola dopo qualche piovasco, anzi anche condizioni a tratti di maltempo tra le due isole maggiori, l'alta pressione ritornerà sui nostri settori, sulle nostre regioni, favorendo giornate per lo più tranquille tra venerdì e domenica. Ma domenica vi segnalo aria più fresca, fredda sui Balcani che potrebbe marginalmente raggiungere parte delle regioni adriatiche, quindi dal nord-est verso la Puglia ma anche regioni del sud. Non è escluso proprio al sud qualche veloce piovasco di passaggio ma la notte saliente è un calo delle temperature più avvertibili per l'appunto sui nostri settori orientali. Il vero ottuno, quello fresco che ci conduce alle porte dell'inverno potrebbe nuovamente riprovarci perché è stato un periodo molto molto mite su mezza Europa. Dettagli, approfondimenti come sempre sull'app di Trebi Meteo.